Sbarca a Napoli una delle mostre d'arte contemporanea che sta conquistando l'Italia e il mondo. Stiamo parlando del Balloon Museum, un innovativo progetto che ha catturato l'attenzione di appassionati e curiosi. La tappa partenopea sarà ospitata dalla mostra d'oltremare fino al prossimo 7 dicembre. Il Balloon Museum rappresenta un format unico creato da un team specializzato, le opere infatti si distinguono per la loro grandiosità e per le forme inaspettate, progettate per interagire attivamente con lo spettatore creando un'esperienza dinamica e tattile. A visitare gli spazi espositivi l'assessore al lavoro e ai giovani del Comune di Napoli, Chiara Marciani. Questa piscina è un simbolo della mostra ma non solo, la cosa bella è che ogni sala, ogni angolo è un momento di scoperta di qualcosa che non ci si aspetta, quindi siamo molto contenti di poter avere questa mostra qui a Napoli e veramente speriamo che possa essere vista da quanti più nostri concittadini e concittadine e ci auguriamo che possa essere anche un'ulteriore occasione turistica per la nostra città. Un po' anche tornare ai giochi di bambini, quindi bellissimo questo ma devo dire mi sono piaciute anche le altre installazioni, questi colori, queste luci, è veramente tutto molto entusiasmante, una bella scoperta. L'obiettivo principale è quello di instaurare una relazione innovativa tra l'arte e chi la fruisce, portando avanti un percorso esperenziale di socializzazione, così l'artista Fabio Di Salvo. Noi facciamo un percorso artistico in cui lavoriamo con elementi naturali messi in connubio con la tecnologia e infatti in questo caso questa installazione si chiama Hypercosmo proprio perché è come se fosse un piccolo ecosistema in cui questo ambiente prende diverse forme, infatti abbiamo diverse fasi, c'è una fase in cui sentiamo animali acquatici, onde, c'è un'altra fase invece in cui sentiamo uccelli, insomma prende varie forme e ospita varie creature digitali.